29 dicembre 2022 ora 12 27 ecco qui ho riscoperto una costruzione tra questa costruzione si gira da quella parte questo è il muro le altre pietre non è che c'è qualche pozzo qui sì questo è molto più profonda però adesso c'è nebbia ecco un vecchio barattolo qua queste quanti anni c'è allora quando c'è il sole entro qua dentro perché adesso è umido e quindi spezioniamo queste costruzioni solide queste costruzioni avevano ed hanno tuttora il pozzo sottostante poi la esaminiamo per l'altro questa costruzione si trova adiacente a questo sentiero vedi questo è il sentiero che conduce ci siamo ancora sul monte penna dall'area archeologica di città ancesia quarta secola di cristo verso la cunicella adesso il sole sta a diradare la nebbia